Terme biodigestore sono stati i temi su cui più di altri l'impegno civico sul territorio ha registrato una significativa intensità in questo 2019 su cui questa sera cala il sipario. Battaglie ancora aperte con sulle terme soprattutto il tentativo di imprimere una svolta nei confronti dell'atteggiamento attendista della regione proprietaria anche attraverso l'azione di due comitati quello denominato ora basta e quello per la salvaguarda del patrimonio termale. Sull'investimento alla cronio nella ditta promotrice la moncada energy continua imperterrita a lavorare forte di documenti e autorizzazioni per i quali tuttavia l'opinione pubblica continua ad invocare chiarezza. Il 2019 è stato anche l'anno in cui dopo le interdittive antimafie inflitte dal prefetto è stato risolto il contratto tra Ati e Girgentiacque ora gestita da commissari prefettizi in attesa che l'Ati costruisca la nuova gestione. Politicamente l'anno su cui cala il sipario è stato complicatissimo per Francesca Valenti paradossalmente tutto è iniziato quando è stata eletta nell'assemblea nazionale del PD a sostegno della mozione di Maurizio Martina. A maggio Sino Caracappa è subentrato a Mario Tulone mentre delle scorse settimane l'addio dei tre consiglieri di Nuccio Cusumano insoddisfatto della composizione assessoriale. Intanto alle elezioni europee a Schack la Lega Salvini Premier ha sbancato il campo anche se il primo partito è rimasto ancora il Movimento 5 Stelle. Anche Schack è nata una sezione locale di Friday for Future, l'organizzazione ambientalista che fa riferimento a Greta Thunberg. Ha visto alla luce anche il progetto Schack a 5 sensi che vede uniti commercianti e operatori culturali per una promozione turistica la più qualificata possibile del territorio e delle sue bellezze. È stato inoltre l'anno delle case ad un euro a Sambuca di Sicilia, della protesta dei pastori per il prezzo risibile riconosciuto sul loro latte, della morte nell'incidente aereo in Africa dell'assessore regionale bene e culturale Sebastiano Tusa, del crollo di via Leonora d'Aragona, strada ancora chiusa, del via reddito di cittadinanza, della protesta della marineria per la norma che impedisce la pesca strasci con alcune zone del canale di Sicilia, dei problemi nel servizio rifiuti per colpa dell'inadeguatezza degli impianti. Non sono mancati gli sbarchi fantasma anche da queste parti mentre la città si è rifatta il look in occasione dell'evento di arte e moda promosso da Dolce Gabbana. Sempre successo malgrado le immancabili polemiche per il carnavale mentre l'Ettrandon Fest ha dovuto fronteggiare problemi di autorizzazione di pubblica sicurezza senza precedenti. È morto a ottobre Antonio Mangia, patron di aeroviaggi e degli alberghi di Sciacca Mare mentre a fine anno sono stati stabilizzati i lavoratori precari grazie soprattutto al lascia passare ai punti finanziari garantito dall'opposizione considerato che la maggioranza non aveva più i numeri. Operazione Paspartout, indagine della direzione distretto all'antimafia di Palermo nei confronti di quella che viene considerata la ricostituita famiglia mafiosa di Sciacca. Due facce della medaglia della sensibilità civile sul territorio sono state da una parte l'impegno profuso dell'equipaggio della Carlo Giarratano a favore di un gruppo di migranti alla deriva a largo di Malta e la decisione dei genitori di Carola Benedetta Catanzaro, una bambina di appena nove anni morta per aneurisma cerebrale, di donare i suoi organi.